Buongiorno a tutti voi che ci state seguendo in diretta, un saluto a quelli che ci stanno seguendo da casa e anche a quelli che sono già collegati sui nostri social, una nuova puntata di Casa Rossini, Paolo oggi ci sono anch'io, ho voluto farti compagnia. Ci voleva, ci voleva anche perché poi adesso ancora non lo sveliamo ma l'ospite che arriva ho bisogno del tuo aiuto per intervistarlo. Certo, sì perché abbiamo seguito insomma tutte le attività della ConfCommercio quindi tra pochissimo avremo con noi il direttore della ConfCommercio Pesaro Urbino, Merigo Varotti, intanto quali sono gli ingredienti di oggi? Dopo una giornata di festa come quella di ieri che tutti hanno consacrato a quello che volevano fare, alle tranquillità, alla giornata libera e serena, oggi si ritorna nel vivo, oggi è il 9 dicembre e mancano 22 giorni alla fine dell'anno anche se questo Capodanno insomma già sappiamo che sarà un Capodanno diverso dal solito. Secondo personologi oggi è il giorno dell'avventura fantasmagorica, aspettiamoci qualcosa di strepitoso. Ed è la giornata internazionale contro la corruzione, la corruzione è diffusissima, guarda qui ho fatto una ricerca, questa è una mappa di qualche anno fa, del 2018, che riporta comunque la diffusione della corruzione nel mondo, come si vede insomma non c'è nazione che si salva da questo problema. La sottolineatura arriva con questa giornata internazionale che tende insomma a evidenziare, questo è un libro di uno dei più grandi scrittori e romanzieri americani che si chiama Don Winslow, famoso per aver fatto la trilogia dedicata al mondo del narcotraffico e naturalmente non gli sfugge anche questo argomento. Insomma giusta sottolineatura, cerchiamo anche con questa piccola cosa di cercare di sensibilizzare, ma è anche la giornata internazionale per la commemorazione e la dignità delle vittime di genocidio e della prevenzione di questo crimine. Parte dal genocidio Ermeno del 1915-23, come sempre la scelta dei giorni dipende da qualche episodio drammatico che ha sollevato il problema a livello internazionale, viene scelto un giorno e quel giorno viene dedicato, però in realtà poi al di là di quel giorno è molto importante rimanere centrati su questi temi. Il santo di oggi è Juan Diego, nato col nome Huautlauazin, perché è un azzeco convertito al cristianesimo nel 1474, secondo la tradizione ha ricevuto l'apparizione della Madonna di Guadalupe, il suo nome in lingua azzeca significa colui che grida come un'aquila. È stato proclamato santo da Giovanni Paolo II nel 2002, lo vediamo in questa immagine. Alcuni eventi storici... Sì, sì, volevo ricordare anche i contatti, subito. Giusto, che io me lo dimentico sempre, meno male che ci sei te, perché io mi dimentico i contatti. Allora 351-708-9977, segnatelo sul vostro cellulare, se volete partecipare in diretta, volete mandarci qualche informazione, anche delle foto, perché oggi c'è arrivata una foto. E ci è venuto in mente perché un amico nostro e anche di Casa Rossini e anche dei telespettatori di Rossini TV, visto che è abbastanza presente, Alfio Magnesi di Ideostampa, questa mattina nell'augurarmi buongiorno personalmente mi hai mandato questa bellissima foto, lui sta a Calcinelli, insomma praticamente, questo è quello che vede mentre va al lavoro e mi ha fatto venire in mente che questo potrebbe essere un'altra bella rubrica da portare avanti, per cui se i nostri telespettatori hanno una bella foto scattata dalla finestra, dalla mattina, dalla sera. Sì, e poi adesso con i nostri telefoni veramente vengono foto bellissime, quindi fateci partecipe del vostro panorama, del vostro paesaggio, del vostro paese, insomma immortalatele, mandatecele qui a Casa Rossini che le guardiamo molto volentieri assieme a voi. In questi giorni sta nevicando nell'entroterra, le giornate di sole, il sole che spunta. Sul Monte Catria ha nevicato tantissimo. Tra l'altro con il cellulare è facilissimo, perché noi vi abbiamo dato un numero Whatsapp, per cui meglio di così non si può, fate la foto, ce la mandate con Whatsapp, noi la giriamo alla regia e la facciamo vedere, naturalmente firmata da voi, spieghiamo da chi viene, se poi volete aggiungere anche un saluto o qualcosa, fatelo e va benissimo. Alcuni eventi storici del 9 dicembre. Allora, nel 1888 Herman Hollerith, che è un americano nato nel 1860 e morto nel 1929, è stato un ingegnere statunitense, uno dei primi padri dell'informatica e primo fondatore dell'IBM, ha installato un'apparecchiatura di calcolo al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. Questa è la macchina di calcolo che ha installato, pensa questo sostanzialmente è un primo computer installato nel 1888. Lui poi è stato uno dei fondatori dell'IBM, che tra l'altro la sigla vuol dire International Business Machine Corporation, e poi ovviamente l'ha lasciata e tutto il resto, l'IBM è diventata quello che è diventata, Big Blue e via, insomma però l'inizio è quello. Nel 1979, e qui entriamo in una cosa che ci riguarda anche oggi, nel 1979 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato la scomparsa del vaiolo, l'ultimo caso, pensate a quello che era l'ultimo, io ci penso sempre a quello che dopo di lui non ci sono più, quello è l'ultimo che lo prende, pensate che sfortuna galassica. Quando è stato? L'ultimo caso, era proprio di quei giorni lì, nel 1879, come oggi, era stato registrato due anni prima in Somalia, nella foto vediamo i direttori del programma di eradicazione del virus. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa da molti paesi negli anni 70. Te pensa che sono state tenute alcune riserve del virus, conservate in due laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli Stati Uniti, non ho voluto mettere delle foto delle persone colpite dal virus del vaiolo perché è una cosa, ti dico la verità, inguardabile a quest'ora, se volete cercarle, l'effetto è pazzesco. Per cui, niente, non aggiungo altro perché non vogliamo andare nelle polemiche. I virus non ci piacciono assolutamente. I virus non ci piacciono e una data come il 9 dicembre del 1979, che è stato eradicato definitivamente, è una data che ci piace molto. Vorremmo un giorno parlare della data. Festeggeremo anche noi la fine del virus Covid, che sarà una data memorabile che ricorderemo per molto tempo. E poi invece andiamo un po' in un ambito un po' diverso, il gossip, quello un po' però gossip di altissimo livello. Nel 1992 viene annunciata la separazione tra il principe Carlo del Galles e la principessa Diana. Si erano sposati il 29 luglio dell'81, 11 anni di matrimonio, qui vediamo, vedi già come la guarda, già da qui si doveva capire, da questa foto qui già si doveva, vedi come si guarda, lo scelta posta. E qui ci sarebbe veramente ad aprire un capitolo, un racconto grandissimo, la grande, la grande Lady Di, veramente. E vabbè, 11 anni di matrimonio, poi dopo tutto quello che è successo dopo, probabilmente lo ritroveremo nelle date. Prima di fare entrare, è arrivato l'ospite? Ancora non è, perché tu devi sapere Paolo che Amerigo Varotti abita a Nova Feltre, a Nova Feltre, a Dissa, un'ora e un quarto da Feltre, quindi sicuramente oggi tutti sono tornati al lavoro e ci sarà un po' di traffico, quindi lo aspetteremo un po' qui? Volevi anticipare qualcosa? No, sì, voglio dire questo, voglio dire che un'altra delle novità, perché come vedete il nostro Casa Rossini è un work in progress continuo, non ci adagiamo sugli allori, sappiamo che siete in tanti che ci state seguendo, sia in diretta che durante le repliche e tutto il resto, però non ci adagiamo mai, continuiamo a elaborare, a pensare, la foto è una novità di questa mattina, un'altra novità è questa, la dedica, la spostiamo, invece di metterla in coda al blocco pubblicitario delle 10.30, la mettiamo a stacco tra il secondo e il terzo ospite, è una novità, insomma, per rendere più dinamica anche proprio la puntata Quindi se volete fare una dedica a qualcuno che sta guardando la TV, volete fare degli auguri, volete festeggiare o celebrare qualche cosa, scriveteci al numero di WhatsApp oppure potete anche commentare nella nostra diretta su Facebook, così facciamo vedere una dedica musicale che avrete scelto per i vostri cari Se volete la canzone che in questo periodo scegliamo noi, perché naturalmente abbiamo già spiegato che siamo una televisione, per cui nel mandare in onda un videoclip c'è la necessità che questo videoclip sia ben fatto, sia un vero e proprio film, non sia una canzone magari antica nella quale c'è solo la copertina del disco, staremo tutti lì a guardare un po' annoiati Anche se le canzoni vecchie sono le più belle, però bisognerebbe che qualcuno si decidesse a rifarci sopra dei veri e propri videoclip, perché ultimamente si vedono queste riscoperte di canzoni di una volta, però con la copertina del disco che rimane staticamente per 3-4 minuti di tempo della durata. La canzone che abbiamo scelto non è casuale, perché a parte che è uno dei miei artisti preferiti, ma è anche uno degli artisti preferiti dell'ospite che sta entrando in questo momento. Ecco qui Lupus in Fabula, Merigo Varotti, buongiorno Merigo Buongiorno direttore Benvenuto nel nostro salotto Buongiorno Buongiorno Stavo giusto annunciando che la canzone che abbiamo scelto per la dedica, che però arriverà intorno alle 10.50, è una canzone di un artista che entrambi amiamo profondamente quel tale Bruce che è uscito con questo ennesimo capolavoro alla tenera età di 70 anni e la canzone si chiama Letter to You, la vedremo appunto come dedica, per cui scatenatevi per fare la dedica su questa canzone che vedremo poi alle 10.50 a stacco tra il secondo e il terzo ospite Allora, Merigo Varotti, direttore della Confcommercio Pesar Urbino, benvenuto ancora nel nostro salotto dopo andremo a vedere, a sviscerare anche la personalità di Merigo perché noi abbiamo un libro che si chiama Personology, in base alla tua data di nascita vedremo la tua personalità e quindi Mi preparo già, mi preparo, guarda mi sono già preparato, mi sono già preparato con il libro con tutto quanto e anche la penna Ecco, è carino e pensa che è stato, sono tutti i mobili di riciclo della Gulliver, del bottegone del riuso, quindi sono tutti i mobili che sono stati così riciclati e che possono essere acquistati nella bottega del riuso Allora, a proposito di acquisti, vorrei subito introdurre questo argomento, questa campagna che ha lanciato la Confcommercio sugli acquisti sotto casa, no? In questo periodo, io lo dico sempre anche nella rassegna, visto che siamo in periodi di acquisti natalizi, cerchiamo di aiutare i nostri amici commercianti Sì, beh, devo dire che quest'anno più che negli anni scorsi, perché l'acquisto sotto casa e l'acquisto nel paese dove uno vive dovrebbe essere una regola costante di sempre ma quest'anno in maniera particolare per le vicende tragiche del covid, della pandemia con tanti negozi che hanno dovuto chiudere per negozi, attività artigianali, pubblici esercizi che hanno chiuso per il rispetto delle norme del Ministero della Salute, il calo dei consumi, la difficoltà veramente di stare in piedi credo che debba spingere tutti i consumatori a guardare con maggiore attenzione a negozi di vicinato. C'è un dato poi preoccupante nel 2019, quindi l'anno scorso, hanno chiuso 14 negozi al giorno in Italia 14 negozi al giorno. Negli ultimi 5 anni hanno chiuso 36.000 negozi nel 2019 i consumi sono calati nei negozi di vicinato dello 0,6% rispetto all'anno precedente contemporaneamente gli acquisti sull'e-commerce, sulle piattaforme del commercio elettronico hanno avuto un aumento del 16% e gli italiani hanno speso la bellezza di 31 miliardi che sono andati nei paradisi fiscali, perché quello che i consumatori dovrebbero sapere che è vero che sul web si possono trovare delle offerte vantaggiose, anche dei prezzi più convenienti. È anche vero però che questi signori, soprattutto i grandi player del commercio elettronico, penso a Bezos, penso a Amazon, tanto per non fare pubblicità, pagano le tasse nei paradisi fiscali, quindi pagano molto meno della metà di quello che paga, ma molto meno della metà di quello che paga un piccolo commerciante, senza avere poi gli altri oneri della tassazione locale, dall'Atari all'Imu all'Acqua eccetera eccetera, che invece sono a carico della piccola impresa. E poi l'invito a comprare sotto casa, fa venire in mente un manifesto che un edicolante nel mio paese ha messo nella porta del locale. Dicendo che siamo vicini a Natale, ringrazio tutti i consumatori, i clienti che da anni vengono qui a prendere il giornale. Festeggiamo in questi giorni i 45 anni di attività e ci dispiace solo per quelli che non ci sono più, quelli che abbiamo conosciuto in questi tanti anni, che oggi non sono più con noi a festeggiare questi 45 anni. Allora questo mi ha fatto venire in mente che il negozio sotto casa è il negozio che ha accompagnato la nostra vita, è il negozio che magari quando c'erano i momenti di difficoltà di una famiglia dice guarda segno, vieni a pagare quando vuoi. È il negozio dove abbiamo fatto colazione prima di andare al lavoro o quando andavamo a scuola magari uscivamo a prendere il bombolone o la pizzetta. È il negozio dove vedevamo il vestito, il maglione, i giocattoli, il negozio di libri dove magari anche non comprando niente ma stavamo le ore lì a guardare le nuove uscite. È il negozio che sa tutto, il negoziante sa tutto della tua vita perché vive la tua vita. Provate a chiedere a Bezos se vi manda gli auguri per Natale o vi fa il commento perché il vostro figlio si è laureato. Se lo fai perché c'è un algoritmo. Perché c'è l'algoritmo, certo. E quindi invece che acquistare con un clic su un computer è bene comprare nei negozi sotto casa perché diamo vita alle città. Guardiamoci attorno, in molti borghi, in molti paesini non c'è più un negozio. E questi paesi sono morti perché il negozio, la luce della vetrina, dà vita al borgo, dà vita alla città. Oltre a essere anche elemento di socialità, di relazioni e diciamo anche di contrasto alla malavita. Perché dove c'è vita, dove c'è luce, è più difficile che arrivino i delinquenti. Tra l'altro oggi come oggi, scusa Emanuela, il contrasto alla malavita è anche proprio molto più mirato perché in questo momento sappiamo che, stante la difficoltà delle attività commerciali, imprenditoriali di vario genere, la malavita sta guardando con cupiscenza la possibilità di entrare proprio nelle attività anche ufficiali. Per cui è doppio il valore di quello che è stato appena detto. Cioè da una parte contrastarla, la piccola malavita, quella che si muove eccetera, illuminando e vivacizzando le città, ma dall'altra anche evitare proprio che il commerciante sia, non dico costretto, ma comunque rassegnato magari a finire per chiudere e svendersi a cose di questo genere. Il problema è che adesso anche nel centro storico di Pesaro sono tanti negozi che purtroppo chiudono e ho paura che questo fenomeno andrà avanti, Amerigo, anche il prossimo anno a causa del Covid, a causa di tante situazioni. Questa è ovviamente una grande preoccupazione che abbiamo e abbiamo tanti segnali in tutta la provincia, anche Pesaro ovviamente, di negozi che non ce la fanno. Devo dire che il sistema nel suo complesso non ha aiutato. Lasciamo perdere il discorso che noi facciamo da sempre. E cioè a dire una diversa politica urbanistica, una diversa politica commerciale, basta con i centri commerciali, basta con gli outlet, aiutiamo i piccoli negozi anche con una fiscalità di vantaggio, con una fiscalità diversa. Ma in questo momento della pandemia, guardate quello che sta succedendo in questi giorni, il negoziante che ha deciso di investire entrando in un centro commerciale, oltre a pagare tante tasse, affitti, però deve star chiuso. Il negozio che è fuori, magari vende wifi, gli elettrodomestici come quello che è dentro la galleria, quello che è fuori sta aperto, quello che è dentro sta chiuso. Non ci sono dei ristori economici adeguati, le imposte continuano a correre, lascia perdere che hanno rinviato i tre mesi, il pagamento, la presentazione della denuncia dei reti, ma purtroppo le imposte continuano a sommergere molte delle attività commerciali. C'è stata una proposta intelligente da parte di un giornalista, non locale, un giornale nazionale. Adesso partirà il prossimo anno la lotteria degli scontrini, che vale solo per i negozi e non per l'e-commerce, con la possibilità di chi paga con carte di credito Banco, ma di partecipare a questa lotteria, che peraltro ha dei premi anche molto consistenti. Sì, un 10%? No, questo 10% è il cashback che c'è adesso e anche il prossimo anno. La lotteria degli scontrini invece arriva fino a 5 milioni di... Ah, addirittura. Sì, perché è un sorteggio. È un sorteggio. Ci sono dei sorteggi settimanali, mensili e poi uno finale annuale di 5 milioni di euro, ma mensilmente anche 100 mila euro uno può vincere. Per incentivare i consumi e legato al fatto che ovviamente i negozi debbano dotarsi del registratore di cassa con la tracciabilità, quindi con il collegamento con l'agenzia delle entrate e per il trasferimento dei dati. Però questo giornalista diceva, se facciamo i conti dal punto di vista fiscale, cosa può voler dire per il nostro Stato, per l'economia del Paese, garantire ai consumatori che acquistano nei negozietti, che acquistano nei negozi la possibilità di poter scontare fiscalmente per quest'anno quello che acquistano nei negozi. Pensate che il costo non sarebbe elevatissimo perché il commerciante incassa, paga le imposte, paga l'IVA e quindi certo lo Stato qualcosa ci rimette, però molto meno che magari tanti aiuti a pioggia che non servono in molti casi a nulla. E mi sembra un'operazione intelligente per incentivare la vendita nei negozi. Sicuramente l'idea di incentivare piuttosto che l'idea di proibire dovrebbe essere una strada da percorrere, perché effettivamente questa idea, proibisco questo, proibisco l'altro, ti agevolo se utilizzi un sistema che io ritengo virtuoso. Poi fa quello che ti pare e vedremo poi alla fine cosa rimane. Non so Paolo se tu hai avuto modo di vedere anche la nostra TV Rossini TV di questa bella iniziativa che ha presentato proprio qualche tempo fa la Conf Commercio dedicato proprio all'itinerario delle rocche. Noi viviamo in un paese bellissimo, in una provincia bellissima. La Conf Commercio veramente fa tantissimo per promuovere anche quei borghi, quelle rocche che sono meno conosciute e che devono essere assolutamente rivalutate. Quindi Amerigo, ritorniamo su questa bella iniziativa. Sì, l'itinerario delle rocche, che peraltro appena finito qui io devo correre perché ho per tre giorni una giornalista di una famosa rivista nazionale che farà un servizio a gennaio sull'itinerario delle rocche e quindi la devo, sì, in qualche modo accompagnare all'aprire perché i musei purtroppo sono chiusi e quindi anche le rocche sono chiuse. L'itinerario delle rocche di Francesco Di Giorgio Martini e il Palazzo Ducale di Urbino rientra in quel progetto dell'itinerario della bellezza che noi portiamo avanti da tre anni con l'obiettivo di valorizzare e promuovere i territori della nostra provincia che hanno affidato alla Conf Commercio l'incarico di essere valorizzati, promossi, comunicati. Attualmente l'itinerario della bellezza sono 12 comuni e periodicamente noi estraiamo da questo contenitore delle pillole. Siamo usciti con l'itinerario romantico che metteva insieme 5-6 comuni, poi abbiamo fatto l'itinerario archeologico, poi l'itinerario delle rocche, cioè abbiamo scelto dei cluster all'interno del progetto più ampio dell'itinerario della bellezza, puntando successivamente alla promozione per nicchie di mercato. Quindi ovviamente l'itinerario delle rocche è valorizzato e promosso tramite il canale dell'agenzia di viaggio, ma anche tramite i circoli culturali e gli istituti italiani dedicati ai castelli. C'è l'istituto dei castelli di Milano che proprio l'anno scorso ha fatto un tour nella nostra provincia, seguito dal nostro tour operator, e che mi ha dato l'idea di fare questo itinerario delle rocche. Però sia l'itinerario delle rocche che gli altri non sono solamente la realizzazione di una guida, perché altrimenti diceva, vabbè, la Rotti si è messa a fare le guide, la consuma c'è a fare le guide. No, facciamo la guida come strumento di conoscenza, ma legato a questo attiviamo tutte le strategie del marketing turistico per valorizzare e promuovere nella località, per cui il web, i social, la pubblicità, la promozione, le tv, le radio, i libri, cioè attiviamo gli education con l'agenzia di viaggio, i press tour con i giornalisti della stampa specializzata, gli accordi anche a livello nazionale con riviste. Questo mese, il mese scorso di novembre, ad esempio, la rivista dei Borghi è uscita con uno speciale su Pesaro, Gabi, Cefano. Questo numero di dicembre, che andrà in edicola a giorni, è uno speciale su Urbino e Raffaello. Gennaio, finiamo questa prima mandata con uno speciale su Collier Metauro e Terre Rovereschi. Quindi utilizziamo tutti gli strumenti per... Peraltro il 17, lo comunico e invito già anche allo Sini TV, il 17 presenteremo a Fano la app, l'applicazione software per smartphone e tablet dell'itinerario della bellezza, che sarà accompagnata da una campagna economicamente anche onerosa per far conoscere l'app in modo che più turisti, più persone vengano a conoscenza di questo territorio. A gennaio, o comunque nei primi massimo, giorni di febbraio, presenteremo invece il film che abbiamo fatto sull'itinerario romantico. Uscirà un libro scritto da una scrittrice che si è immaginata una storia lungo il percorso che noi gli abbiamo indicato di questi comuni dell'itinerario romantico e abbiamo girato un docufilm, stanno, credo, finendo questa settimana le ultime riprese, in un negozio di peso. Adesso non facciamo troppi nomi. Bello, bello. Dove abbiamo fatto le riprese in cantine, in alberghi, in ristoranti, nella spa di un albergo di Gabice. Chi è Amerigo? Beh, adesso mi chiedi troppo. Quindi usciremo con questo. Però stiamo già lavorando a altri due progetti. Intanto la nuova edizione dell'itinerario della bellezza 2021, con delle novità, sia nei comuni partecipanti, che adesso non posso anticipare. Eh, Amerigo non puoi dire nulla oggi. Beh, diciamo che ci sarà, in più ci sarà Sasso Corvaro, per il momento, ma siamo in trattativa con altri comuni. E poi stiamo lavorando invece al progetto 2021, che è l'itinerario del silenzio e della fede. Eh, andiamo, vogliamo catturare anche quella parte di turismo religioso, che è in grande espansione in tutta Europa, particolarmente in Italia. E anche nella nostra regione Marche. Anche nella nostra regione Marche, andando a valorizzare, promuovere i luoghi del silenzio, quindi gli eremi, i luoghi della fede, le chiese più importanti di questi comuni, per anche qui, andare ad acquisire una nuova clientela turistica. Ma quando usciranno gli itinerari della musica, visto che tu sei un appassionato di musica? Allora, io avrei un appuntamento alle 11.30 oggi, proprio per parlare di itinerario della musica. Davvero? Non lo sapevo, un giorno che non lo sapevo. Ho detto alla mia segretaria di spostare l'appuntamento, perché devo andare a Urbino, che mi aspetta questa giornalista di Bell'Italia. E quindi, però, stiamo lavorando anche a questo, insomma. E poi, invece, lavoreremo tutto il 2021, per uscire nel 2022, in primi mesi del 2022, con il progetto più difficile, per me, perché l'itinerario della rocca l'ho scritto io, o l'itinerario della fede, lo scrivo io, ma l'itinerario prossimo, che è del gusto e dei sapori, è un pochino più complesso, perché bisogna vedere le ricette, i ristoranti, le aziende agricole, c'è tanta roba. Bello anche questo, eh? Quindi lavoreremo tutto il 2021 per questo, usciremo nel 2022. Io prima, mentre ascoltavo, come posso dire, in qualche modo l'esortazione ai consumatori, in effetti mi ero posto questo dubbio, no? Non può essere tutto sulle spalle del consumatore, no? Bisogna che qualcuno faccia anche il suo pezzo. Ecco, con tutto questo che il direttore Barotti ci ha detto, è evidente che c'è qualcuno che sta facendo il suo pezzo, in maniera molto importante, perché deve essere uno sforzo collettivo, cioè non si fa la guerra A, ma si costruisce qualcosa di complementare, di integrato e che funziona a quel punto, no? Sì, no, infatti, per la verità, noi avevamo, l'anno scorso, lanciato un altro progetto che andava in questa direzione, consapevole che, come dicevo prima, le vendite online sono in grande espansione, avevamo pensato di offrire al piccolo associato, al piccolo commerciante, o che ha la vetrina fisica, una vetrina virtuale. Quindi il progetto che avevamo fatto era quello di un marketplace, di una piattaforma per il commercio elettronico per tutti i nostri associati, con pochi costi, come si dice, pochi costi e molta resa, insomma, in modo che potevano avere il negozio, ma anche la vetrina virtuale. Avevamo fatto il progetto, avevamo trovato anche l'ipotesi di un magazzino, perché dopo c'è il problema del trasferimento, della spedizione, eccetera. Però devo dire che l'anno scorso questo progetto non ebbe un grande risultato in termini di adesione da parte dei commercianti, forse non ci avevano creduto. Per cui avevamo una decina, forse nemmeno, di aderenti, ma che non riuscivano a coprire i costi notevoli di avvio di questo progetto, che noi avevamo ipotizzato con almeno 150 partecipanti, ammortizzando gli investimenti in due anni. Con dieci, ovviamente. Probabilmente funziona di più ancora l'idea che si debba portare la gente nei negozi piuttosto che inventarsi qualcosa. Bisogna entrare un po' anche in quell'ottica perché... Però questo era anche legato alla possibilità di farti conoscere e poi vieni a ritirare nel negozio, non necessariamente con la vendita, con la spedizione online. Peraltro un'iniziativa simile, ho visto che adesso la stanno facendo a Firenze. A Firenze non la ConfCommercio, un'associazione, non so, sta organizzando, si chiama Sotto lo stesso albero o qualcosa del genere, la finalità è sempre quella, dare la possibilità di avere una vetrina per il tuo negozio. Il nome distinto, uno dice Amerigo, ha a che fare con l'America, invece è il contrario, ovviamente, l'America ha a che fare con Amerigo perché è con Amerigo Vespucci. Il nome è la forma toscana di un nome di origine tedesca, Amalarico, che vuol dire uomo molto attivo. Ecco, perfetto. Il destino nel nome è da promuovere. Amalarico, uomo molto attivo, nome di origine tedesca. Sul profilo Facebook, l'abbiamo accennato prima, lui si dichiara addirittura Born in USA, per cui sprintiniano fino al midollo. C'è un anno strano, 1856, però va bene. Per sviare un po' è facile, è molto facile arrivarci. Ricordiamo che Amerigo Varotti è anche un bravissimo fotografo, io l'ho incrociato nella giuria, tra l'altro, di un'edizione passata dell'Ido Calendario, che quest'anno è stato fatto, è stato presentato, l'abbiamo presentato sullo Sini TV. Do un'occhiata alla pagina di Personology, cosa dice? Certo. Allora, i nati il 20 agosto, 20 agosto è il giorno, possono essere mossi, perfino dominati per gran parte della vita da avvenimenti del loro passato, che sono stati tenuti segreti. I più coraggiosi dovranno risolvere questo mistero personale, affrontandolo senza paura, lavorando per superarlo. A parte pochi confidenti intimi, tuttavia, molti dei nati in questo giorno sono destinati a non condividere con nessuno la loro verità. E qui ci sono dei segreti che non scopriremo mai. I nati in questo giorno, Luciano De Crescenzo, Carla Fracci, non so se lo sapevi, Carla Fracci, Salvatore Quasimodo, insomma, direi in buona compagnia, nei pregi c'è fantasioso, capace di empatia e coraggioso, leggo anche i difetti, preoccupato, solo e inclina la fuga. Beh, in giro un po' va, un po' in giro va, ma non per fuga, perché poi torna alla fine, per cui dei bei giri per lavoro, insomma, lo seguiamo, perché poi è molto attivo sui social, per cui lo seguiamo. Devo dire che questa pandemia mi ha relegato invece a pochi viaggi, soprattutto all'estero. E soprattutto all'estero, ovviamente. Sono, ero abituato da, io faccio questo mestiere dal 1986, no? Quindi, ero abituato per lavoro a viaggiare il mondo ogni mese, ero da qualche parte. E mi fa venire in mente, io ho un figlio che abita in Cina, e da pochi giorni è diventato responsabile dell'ente italiano del turismo per la Cina, e l'altro giorno era all'aeroporto di Pechino, rientrava a Shanghai, abita a Shanghai, rientrava a casa, era stato dall'ambasciatore a Pechino, e allora ha scritto, dice che è strano, perché in questo periodo, gli altri anni, io mi trovavo in questo terminal dell'aeroporto di Pechino per andare a casa. E quest'anno, ovviamente, invece non potrò andare in Italia, mi mancheranno le tagliatele, mi mancheranno gli amici, mi mancherà la famiglia, eccetera, eccetera. E allora pensavo che anch'io, in tutti questi mesi, insomma, non ho preso un aereo, è cosa strana, mi sono limitato a qualche viaggio in Italia per lavoro, ma abbinando il lavoro anche la mia passione, che è la curiosità. Io sono una persona molto curiosa. I miei viaggi sono lunghi, anche in macchina, perché io mi fermo per strada a fare le foto. Io appena vedo qualcosa di particolare mi devo fermare, anche stamattina ho fatto una coda lunghissima venendo da sopra San Marino, perché c'era la nebbia che copriva a metà i tre castelli di San Marino, però a sinistra stava venendo, sbucava il sole. Io non potevo fermarmi, no? Quindi, sì, la fotografia mi piace molto. Peraltro, quando abbiamo organizzato, l'anno scorso, non due anni fa, una mostra, le vie della bellezza, la mostra di Marco Trionfetti, a cui ho dato il messaggio, tu mi devi mettere in fotografia la bellezza, che per me è una donna. le curve femminili, quindi le vie della bellezza, era una donna nella bellezza dei luoghi dell'itinerario della bellezza. E allora io, vedendo queste belle fotografie, quando abbiamo inaugurato le mostre, mi ricordo che avevo citato una frase di Henri Cartier-Bresson, che dice, grande fotografo francese, che dice che per fare una buona fotografia non è necessaria una buona macchina. Ci vuole, bisogna mettere in linea, in fila, il cervello, l'occhio e il cuore. E quindi molti professionisti, purtroppo, hanno una buona macchina, ma non hanno il cuore a sufficienza. Io sono curioso e credo di metterci la passione, per cui, devo dire sì, la verità, mi vengono anche delle buone foto. Spesso e volentieri in queste guide, oltre a quelle del professionista che non cito, ma molte sono mie, anche per questa guida che faremo dell'itinerario del silenzio e della fede. Io sto in questi giorni curiosando, grazie agli amici sindaci, o anche personaggi di questi paesi, vado a cercare chiese, abbastie, che non conoscevo, dico la verità, e ho fatto un archivio fotografico incredibile. Riguardo invece al nome, l'origine del nome, io ho un nome strano, perché Amerigo, sono pochi in giro, Amerigo. Avevo un azio che si chiamava Amerigo, Amerigo, ma molti mi chiamano Almerigo, e qui ci siamo, Almerigo, Almerigo, però mi piace, insomma, questa origine. L'altra cosa che dice, ma io non credo di essere un libro sostanzialmente aperto, non credo di avere segreti, forse qualche segreto inconfessabile, ce l'abbiamo tutti adesso. Una cosa forse però è vera, quello che dice, parli di solo. Ecco, una cosa che mi contraddistingue è che non ho una grande rete d'amicizia. Cioè, io vedo molti, stasera andiamo a cena con dieci amici, con mogli, parenti, amanti, eccetera, oppure questa sera vengono a casa, ecco, io sono un orso, infatti mi definisco un orso, mi piace chiudermi magari nel mio ufficio a casa, in mezzo ai miei libri, che non so più dove buttare, perché ne ho tanti, oppure in mezzo ai miei dischi. Poi adesso, poi questo mio difetto, cioè che mi piace la musica, c'è qualche amico che appena svuotano una cantina, mi porta tutto. Mi porta tutto. Pochi minuti fa, prima di arrivare qua, mi ha telefonato, guarda, mi hanno portato una televisione, quelle le prime, a valvola, guarda, quelle non so proprio dove metterle, però sa che quando trova dischi o radio, quelli sì, non so dove metterle. Tante cose che mi legano al direttore Varotti, allora, perché mi ritrovo nei libri, nella passione per le cose di una volta, quelle che avevano l'anima dentro, perché poi la differenza tra le cose di oggi e quelle di una volta, quelle di una volta venivano ideate da qualcuno che le costruiva con il pensiero. Adesso vengono realizzati dei focus group, si va sull'indagine di mercato, eccetera. Emanuele, lo so che mi guardi, che è tardissimo. È tardi. È molto tardi. C'è la pubblicità. E qui il tempo è volato, letteralmente, come sempre. È volato, ma sicuramente a Merigo ti ritroveremo qui nel nostro salotto. Questo è uno spazio che tre mattini a settimana in diretta su Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, quindi quando vuoi da Nuova Feltria, oppure nei tuoi numerosi giri, ritornare, sei ben accolto e ben accetto. Bene, grazie, grazie dell'invito. Grazie, Merigo. Mi è piaciuta questa conversazione, anche perché non abbiamo parlato solo delle cose che tutti i giorni, con preoccupazione, altra cosa che dice, con preoccupazione viviamo, ma anche dei piaceri. Ecco, quello dei libri è, insieme ai dischi, uno dei grandi piaceri. Infatti, credo che dovrò comprare una casa per mettere altri libri, perché non so dove mettere, insomma. Sì, perché buttare via neanche uno. Assolutamente. Assolutamente. Libri non si buttano, ma credo di avere, non so, non oso dire il numero. Ho smesso di contarli anch'io, devo dire. Ci siamo. Grazie, Merigo, grazie mille. Grazie per essere stato con noi e per, in qualche modo, essersi prestato, essere scoperto e disvelato ai nostri telespettatori. Noi adesso facciamo una pausa pubblicitaria, ci vediamo subito dopo con il direttore dell'APA Associazione Pesarese Albergatori, con il presidente dell'APA Fabrizio Oliva. Ben tornati a Casa Rossini e benvenuto a Fabrizio Oliva, presidente dell'Associazione Pesarese Albergatori. Benvenuto. Grazie dell'invito. Siamo qua con un po' di mestizia, a dire il vero, a parlare di una delle categorie che in questo momento evidentemente stanno soffrendo di più. Direi che comunque categorie che non soffrono non ce ne sono, però la categoria degli albergatori in questo momento, tra l'altro, con una situazione un po' altalenante, prima sì, poi no, poi sì, poi no, effettivamente è quella più spiazzata e quella che in questo momento si guarda intorno e si guarda le porte vuote, le stanze vuote, insomma. Sì, io a proposito della nostra categoria volevo sottolineare questo, ovviamente molte categorie sono in difficoltà, si parla molto spesso di categorie che sono più rumorose della nostra, ma noi di fatto praticamente tranne la parentesi dei 45 giorni dell'estate, forse anche 30, sostanzialmente non abbiamo più lavorato, i nostri codici a teco non sono stati chiusi per provvedimento legislativo, ma di fatto anche in questi giorni la metà degli alberghi annuali praticamente sono chiusi perché non c'è clientela, non avendo la possibilità di fare eventi, non essendoci congressi, il turismo per modo di dire, comunque la clientela commerciale, quella del business, oramai lavora tutto per computer con videocall o in smart working, per cui sostanzialmente gli alberghi, tranne qualcuno che ha delle squadre di operai per qualche appalto, sostanzialmente non ha più clientela e quindi è stata costretta a chiudere. E quindi direi che noi siamo una delle categorie più in difficoltà, che ovviamente a sua volta mette in difficoltà anche altre categorie perché siamo a capo praticamente di una filiera, insomma, se noi non lavoriamo, non lavora il ristorante, non lavora il negozio, non lavora il bar, non lavora la pasticceria, incidiamo nell'economia della città. Non lavora le lavanderie, tanto per far capire come funziona, è molto allargata la situazione. Peccato perché diciamo che dopo un po' di anni di avvicinamento, di movimenti, di studio, si era arrivati con l'amministrazione, parliamo di Pesaro, a un livello di concertazione interessante e mi par di ricordare dei bei momenti di apprezzamento nei confronti di quello che la città di Pesaro iniziava a proporre da parte anche di un'associazione come la vostra che non è sempre stata in perfetta sintonia con l'amministrazione. Sì, quello che dici Paolo è vero, noi nel 2019 forse avevamo già toccato un po' l'apice perché sia in termini di accoglienza ma anche in termini di promozione noi abbiamo fatto molte iniziative congiuntamente al Comune e avevamo anche dei buoni risultati, io credo che la stagione 2019 sia una bella stagione da ricordare, tra l'altro anche un progetto di marketing rispetto anche alle iniziative che facciamo sempre più qualificate che devono un po' riconvertire, non tanto per l'allungamento della stagione perché è sempre una cosa molto difficile ma per la qualificazione della clientela che veniva a Pesaro. molti alberghi al di là degli aspetti esteriori hanno investito, proprio nel 2019 non sono di quelli che ha investito tanto perché ha investito oltre un milione d'euro per riqualificare la struttura interna e quindi avevamo un mercato delle famiglie che stava crescendo e quindi c'erano più prospettive economiche perché se l'albergatore guadagna un buon ricavo può anche investire per qualificare la propria struttura, se non guadagna deve cercare di tirare avanti. Ora cosa ci aspettiamo? Ora il 2020 è stato un anno molto difficile, molti dicono a voi è andata bene, no a noi non è andata bene, a noi è andata meglio del previsto, per cui comunque è stata, rimarco che è stata il 2020 una stagione difficile, cosa ci aspettiamo? Ad esempio sabato c'è stato il Futur Day, promosso da un'associazione comunque diciamo formalmente da un'associazione ma di fatto dall'amministrazione. Noi cosa ci aspettiamo? ci aspettiamo che l'amministrazione comunale a differenza praticamente del passato sia ancora più vicino a noi, che condivida ancora di più con noi le problematiche perché oltre alle vecchie storie abbiamo praticamente anche le storie del Covid. Noi in sostanza abbiamo pagato la Tari sostanzialmente quasi per intero perché abbiamo avuto uno sconto comunque sulla parte variabile del 10%, comunque ogni mese anche per gli stagionali o bimestre arrivano le bollette per i fissi comunque della luce, del gas, dell'acqua, arriva tutto e quindi noi abbiamo delle spese importanti, per cui le scelte future anche di gestione della città vanno condivise e vanno concertate con l'associazione di categoria ancora di più rispetto al passato. Anche i progetti presentati dal Comune sabato in modo particolare, quelle della riqualificazione della zona di Levante, quindi della parte sud, è molto importante. Ovviamente c'è chi è stato critico rispetto a questa iniziativa dicendo che è il libro dei sogni, ma adesso comunque in questo momento bisogna progettare, bisogna credere e bisogna andare avanti perché se si pensa sempre negativo non arriveremo mai in fondo. Infatti volevo scusare se ti interrompo, ma era qui un po' la mia riflessione questa, se c'era già un percorso sul quale si stava andando bene e ci sono delle prospettive comunque interessanti di studio, è un po' un momento nel quale non per scelta di nessuno ovviamente si tratta di attivarsi in tutti i modi per stare un po' in apnea, è doloroso, faticoso, non tutti ne usciranno e qualcuno quando si sta in apnea rimane anche sotto, però voglio dire comunque si è diversamente da tante altre categorie, perché non dimentichiamoci che l'Italia non stava benissimo nel 2019 globalmente, invece diciamo che qui da noi c'era una situazione che stava andando sempre di più verso una positività, per cui parlo del turismo e parlo dell'associazione che rappresenti e anche comunque degli altri albergatori. Allora la mia sensazione è un po' questa, cioè quella di dire ok, comunque il percorso è in qualche modo definito, è chiaro, è vero, è un libro dei sogni perché ci sono anche sogni molto grandi come quello famoso dell'arretramento della ferrovia, io ero piccolo se ne parlava e tutti come battuta dicono era piccolo se ne parlava e probabilmente se ne parlerà ancora tanto, però ci sono delle considerazioni concrete e soprattutto il sogno è bello. Allora a questo punto, visto che altro non si può fare, mi parlavi di alberghi che devono chiudere con le catene, non a Pesaro fortunatamente, perché a Roma, perché hanno paura di venire occupati dai sensazioni, insomma situazioni veramente drammatiche, visto che c'è poco da fare in questo momento, se non trattenere il fiato e restare in apnea, è positivo che ci siano comunque delle sensazioni che vanno verso la realizzazione di qualcuno di questi sogni, o no? Certo, io direi però siccome il libro dei sogni è immenso, cominciamo a forzare dalla priorità a quelli più realizzabili, quindi sicuramente l'arretramento della ferrovia è un sogno epocale, direi, ma altre cose invece sono molto possibili. L'altra cosa che volevo dire è questa, perché chiedo che l'amministrazione sia più vicina a noi, perché comunque anche quest'estate, guardi io non parlo mai con spirito polemico, io sono abituato a parlare in modo molto chiaro perché voglio sempre un confronto sereno, quindi non ho ripicche e non voglio fare polemica, ok? Anche la gestione della zona mare di quest'estate non è stata brillante in termini di atteggiamenti, quindi noi chiederemo soprattutto al sindaco, perché poi il fulcro di questa città è il sindaco, senza togliere nulla alle assessori e alla giunta, che si ritornasse a discutere preventivamente con la nostra associazione e anche con le altre categorie, perché non è che possiamo governare la città come albergatori, ci sono anche altre categorie che devono essere comunque rappresentate, per la gestione della città, soprattutto in campo turistico, perché le scelte che si fanno purtroppo incidono molto nel flusso turistico, soprattutto per attività diverse dalla nostra, come dicevo prima, noi probabilmente l'unica cosa che ci fa sperare, ieri c'era una bellissima intervista di Walter Scavolini, dove dice che comunque l'azienda va bene, c'è molto lavoro e quindi speriamo, e che quindi tutto sommato il settore manifioteriere per la maggior parte dei settori sta andando bene, quindi questo significa che anche al nord, dove c'è il nostro bacino d'utenza, probabilmente l'industria va molto bene e quindi ci fa sperare che quest'estate, visto che in inverno le vacanze non le possono fare, i viaggi ai Caraibi non le possono fare durante la primavera, che almeno quest'estate ci sia un forte ritorno praticamente in Italia e quindi anche dalle nostre parti. Noi altre località limitrofe siamo sempre le più ambite perché siamo sostanzialmente a tre ore dalla Lombardia e quindi questo ci fa ben sperare. Il problema però è resistere e ad avere l'amministrazione comunale vicina, ad esempio per alcune categorie, anche se si sostiene che c'è stato un provvedimento nazionale, i ristoratori hanno avuto l'esonio della TOSAP, dell'occupazione solo pubblico, noi non abbiamo avuto nessun ristorno, cioè gli albergatori comunque, quello che noi chiediamo, chiediamo all'amministrazione comunale che in un qualche modo ci sia un ristorno anche per noi, perché effettivamente noi abbiamo pagato mediamente 10-12, batto su questo perché è l'argomento sulla quale gli albergatori sono più arrabbiati, perché da noi la Tari incide moltissimo, sostanzialmente in 40 giorni di lavoro dobbiamo pagare 13, un albergo di 50 camere mediamente deve pagare 12-13 mila euro di Tari, quindi ha un'incidenza sui costi fissi molto importante, gli affitti fortunatamente, comunque i proprietari della nostra città per quello che mi risulta, perché ovviamente parlo con gli albergatori, sono stati abbastanza bravi, bravi nel senso che hanno tenuto conto della situazione e quindi normalmente la media è stata intorno al 50% dell'abbassamento dell'affitto, quindi questo è un altro elemento importante che ci ha permesso di stare in piedi, perché altrimenti non saremo arrivati a Capodanno, saremo rantolati prima chi decideva comunque di aprire e quindi io sono molto positivo, però servono interventi praticamente da parte del Comune a nostro favore, ripeto per la quinta volta, serve un atteggiamento diverso da parte dell'amministrazione comunale, vogliamo un rapporto diverso col sindaco che comunque è un personaggio a livello nazionale, quindi nel di là di essere sindaco di peso, riteniamo che le nostre categorie, quindi faccio anche un po' di autocritica, in modo particolare Federalberghi debba fare di più per noi, perché ovviamente gli stagionali, anche sul discorso del credito d'imposta, sono stati fortemente penalizzati, hanno dovuto dividere l'affitto in dodicesimi, quindi noi in realtà lavoriamo, anche se avessimo avuto la stagione piena, avremmo lavorato tre mesi e mezzo, quattro mesi, è stata istituita l'esenzione delle prime due esonerate dell'Imu, ma in realtà questo è toccato il 5% degli albergatori, perché sostanzialmente potevano essere esonerati solo coloro che gestivano direttamente, ma nemmeno chi è proprietario dell'albergo gestisce direttamente, perché normalmente l'albergo è intestato in immobiliare e poi viene subaffittato a se stessi tramite una commerciale, quindi ci sono delle storie un po' fumose, complicate, esatto, che magari potrebbero essere anche difficili da capire per il nostro pubblico a casa, una cosa però che il pubblico a casa sicuramente si ricorda, sono questi belli articoli che facevano tirare un bel sospiro di sollievo a fine estate, nei quali si cantava un po' vittoria, diciamoci sinceramente, cioè un'estate è andata bene, forse perché si veniva dalla grande paura dell'estate chiusa sostanzialmente, poi non è stato così, per cui c'è stato un bel sospiro di sollievo che si è riverberato in maniera molto potente, cioè la sensazione in chi magari ovviamente essendo a Pesaro e di Pesaro e magari non ha a che fare con gli alberghi dal punto di vista turistico per lavoro, era che invece fosse stata un'estate che era andata benissimo, o no? Sì, dicevo prima, molti pensano questo, ma in realtà non è così. Ma avete sbagliato voi a comunicarlo, ha esagerato la stampa, ha enfatizzato, cosa è successo? Secondo me ha esagerato la stampa perché le mie indicazioni sono state sempre di questo tenore nel dire che è andata molto meglio del previsto perché effettivamente nel mese di agosto, sì vabbè si prevedeva di non aprirle neanche, per cui è facile. E quindi praticamente 40 giorni di liquidità perché serve anche la liquidità, questo è il problema, quindi si tratta oggi di guadagnare, ma come per tutte le categorie si tratta di tornare a lavorare perché comunque noi lavano funzionale dobbiamo fare, le bollette dobbiamo pagare, ripeto una serie di cose in forma minore e la liquidità perché ogni azienda fa un proprio piano di pagamenti, per cui magari un po' tutti, tutti sono contenti, niente nessuno è un casino e quindi la gente ha percepito questo perché comunque dai la città era viva, al mese d'agosto insomma la città è stata viva, le spiagge erano piene, gli alberghi erano pieni in agosto, però un mese è troppo poco perché anche il 50% dell'affitto che normalmente sarebbe stato spalmato sui quattro mesi, noi in realtà avremmo dovuto pagare il 25% dell'affitto, quindi sulle spalle abbiamo un 25-30% dell'affitto in più, l'Atari, altri fissi insomma eccetera, quindi diciamo economicamente non abbiamo avuto un buon risultato, però noi siamo stati contenti ugualmente, ecco forse questo ha percepito la gente, la contentezza perché siamo riusciti a partire, se parliamo di tour operator ad esempio, i tour operator non sono mai più partiti e quindi praticamente loro sono ancora più sportunati di noi insomma ecco e non ripartiranno prima del settembre 2021, noi abbiamo una prospettiva che da giugno se le cose andranno bene, se il vaccino avrà il suo effetto possiamo ripartire e l'andamento dell'economia in generale per il settore manifatturiero, cioè di coloro che può spendere, del cento media del nord che veniva in vacanza da noi, voglio dire potenzialmente sono tutti i nostri clienti diciamo comunque che allora un po' il ragionamento di prima del libro dei sogni, cercando quelli più realizzabili, un po' una prospettiva che si comincia a intravedere con l'arrivo del vaccino e tutto il resto, fa come dicevo io prima, trattenere il fiato, stare in apnea in questo periodo difficilissimo, disdette ovviamente sono arrivate per forza inevitabilmente complete, totali, per cui c'è solo da progettare a questo punto, c'è un sacco di tempo per progettare. C'è un sacco di tempo per progettare, ma non è che sono arrivate disdette, non sono arrivate richieste, le disdette sono arrivate per coloro che lavoravano col Capodanno, comunque a Pesola praticamente e sostanzialmente i riposti disponibili per il Capodanno, così come in tutta la riviera Adriatica, oramai è tradizione fare il Capodanno praticamente in riviera, sono arrivate tutte disdette insomma, anch'io personalmente che oltre a fare l'albergatore faccio anche il tour operator, avevo 4-5 alberghi vuoto per pieno, praticamente sono stati tutti annullati perché ovviamente la gente non può venire in vacanza. E allora, a questo punto noi abbiamo concluso il nostro tempo, lanciamo un messaggio positivo per concludere, per tirare su un po' il morale di chi è a casa, prima della interruzione dedicata a una canzone di Springsteen che si chiama Letter to You, cosa possiamo dire comunque? Che sopravviveremo? Possiamo dire che sopravviveremo, ma abbiamo bisogno ancora un po' di aiuto dello Stato e che quindi la nostra categoria legata al turismo, quella degli albergatori, insomma venga un po' più aiutata anche a livello centrale perché anche noi sicuramente per arrivare in fondo avremo bisogno ancora di un po' di ristori. Bene, Allegra c'era una dedica su questa canzone? Perché adesso dobbiamo ascoltare come novità diciamo da oggi una canzone e vediamo una canzone, la canzone Letter to You di Springsteen, c'era una dedica e poi prendiamo questa pausa e ci rivediamo dopo con il prossimo ospite che è Angela Tringali, direttore Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus, ma prima la dedica, buongiorno Casa Rossini, sono zia Giulia e volevo augurare buon compleanno ai miei due nipotini, Mirko e Michele che oggi compiono sette anni, i gemellini più belli e vivaci che conosca, giustamente. Letter to You di Springsteen anche in riferimento al direttore Varotti che è stato il nostro ospite prima e che è un grande sprintiniano come del resto sono io. Grazie Fabrizio Oliva e arrivederci a presto. Grazie a voi dell'invito e saluto a tutti i telespettatori. E siamo di nuovo in studio per questa maratona televisiva in qualche modo che ogni mattina ci vede protagonisti qua in diretta da Rossini TV a Casa Rossini con una sequenza di ospiti abbiamo avuto già con noi Amerigo Varotti, abbiamo avuto Fabrizio Oliva e adesso siamo con Angela Tringali. Grazie per questo invito. Allora, Angela Tringali, direttore della Fondazione Banco Alimentare Marche, questo è l'argomento per cui sei qua, ma anche direttore della Compagnia delle Opere. Però siamo qua a parlare del Banco Alimentare perché si è conclusa ieri in qualche modo la... è una zona incredibile perché siamo stati per 20 giorni in diversissimi supermercati d'Italia e della Regione Marche ovviamente, proponendo l'acquisto di una card, l'ho portata perché così anche per il vostro pubblico è anche... per molti è diventata una cosa familiare ormai perché la proposta era appunto di acquistare una card della colletta alimentare per consentirci dopo l'acquisto della spesa perché quest'anno ovviamente per l'enorme Covid non era proprio possibile proporre tanti volontari, il sacchetto, la sportina, tutti toccano eccetera non era proprio il caso. Ricordiamo scusami che il meccanismo originario era quello che ormai tutti noi conosciamo quando andiamo a fare la spesa in questo periodo, un bel plotone potente di volontari che aspettavano tutti i clienti, i consumatori all'entrata e all'uscita per dare un sacchetto dedicato nel quale poi chi voleva poteva mettere. Tutto questo ovviamente in ambito Covid dove il contatto, il tocco è considerato portatore potenziale di contagio, è chiaro che è caduto proprio all'istante, cioè quando è uscita questa situazione è evidente che si è capito che non poteva essere portato avanti in questo modo e voi vi siete inventati una soluzione alternativa, una nuova modalità. Guarda, devo dire che quando me l'hanno proposta era a fine settembre e mi sembrava esagerata perché ho detto madonna dai ma facciamo tutto, era ancora un periodo un po' allegro diciamo e quindi non ne avevo neanche capito la portata perché ovviamente noi ereditiamo comunque delle scelte che vengono fatte a livello nazionale perché la colletta alimentare ha una identity ben precisa a cui noi aderiamo. Poi quando siamo diventati zona arancione proprio in piena colletta alimentare ho benedetto veramente questa avvedutezza, proprio questa capacità di visione e per cui quest'anno ovviamente è stata o meno una festa perché comunque le indicazioni erano anche di non coinvolgere minorenni perché comunque è una grossa responsabilità di non coinvolgere over 65 che sono gli appassionati della colletta, quelli che l'hanno vista nascere ormai 25 anni fa quindi cioè si partiva veramente un po' in salita e poi invece è stato veramente interessantissimo vedere come poi la vita si dipana, le idee vengono eccetera e quindi è stata veramente una grandissima occasione questo periodo. Il Covid sicuramente ha insegnato a rendere reale il detto di necessità virtù sono tantissime realtà che si sono reinventate o comunque che hanno trovato via alternative a qualcosa che sembrava consolidato e ormai perfetto è l'unico modo di fare invece ci si è trovati in questa necessità questa delle tesserine che praticamente ognuno poteva acquistare e per destinare poi venivano consegnate a voi e voi con il monte euro stiamo ancora aspettando il numerone il numerone ancora non arriva ma ci sono state anche in parallelo delle iniziative interessanti perché ci sono state per esempio noi abbiamo ospitato Beatrice Pantanelli del Giardino di Santa Maria loro hanno deciso di sposare l'idea in che modo appunto destinando una parte degli incassi all'acquisto a loro volta di schedine che poi venivano consegnate per cui si innesca tutto un meccanismo virtuoso che fa sì che poi alla fine le cose ovviamente non vanno nello stesso modo perché l'entusiasmo che c'è legato alla socialità e tutto il resto è un'altra cosa per forza è inevitabile però che comunque a fronte di una ipotesi di quest'anno non lo facciamo perché quella era l'alternativa sicuramente diventa molto molto interessante assolutamente ma infatti per esempio adesso hai raccontato questa cosa della Bea Pantanelli te la voglio raccontare anche meglio nel retroscena perché lei mi ha chiamato un giorno e mi ha detto guarda io da sempre da che c'è la colletta alimentare non l'ho mai potuta fare perché coincidendo in un periodo di grandissimo lavoro poi è sempre fatto l'ultimo sabato di novembre la colletta alimentare dice io dovevo lavorare quindi io il turno al supermercato non l'ho mai potuto fare quando ho saputo di questa cosa mi sono detta questo è il primo anno della mia vita che potrò fare la colletta alimentare in un modo nuovo poi ieri l'ho proprio accompagnata alla fine posso anche anticipare il numero hanno donato 600 euro alla colletta alimentare comprando tutte le tessere grazie appunto ai clienti che hanno acquistato gli alberi di Natale sapendo noi poi avevamo fatto una comunicazione sono quella dei bigliettini stavate sì sì no no mostro la telecamera una comunicazione insieme proprio in ogni albero lei appendeva questo cartellino che indicava che grazie a quell'acquisto una parte di quell'incasso sarebbe stato devoluto proprio alla colletta alimentare al banco alimentare e ieri sera abbiamo fatto poi la scenetta proprio dell'acquisto vero che quell'idea che ci siamo raccontate un mese fa quando lei mi ha fatto questa telefonata ieri l'ho vista proprio concretizzata e vi dirò anche di più perché questo mi ha fatto veramente pensare lei ha detto guarda quando l'ho pensato ero veramente entusiasta poi oggi quando era il momento di prendere questi soldi e darli in un periodo che comunque è stato complicato mi sono dovuta ridire tutte le ragioni che mi portavano a fare una cosa del genere perché non è un momento pieno in cui uno dà il superfluo non è di abbondanza dà proprio l'essenziale e quindi in questo momento poter ricordare comunque gli altri poter dire comunque per noi c'è quindi tendo la mano è stata veramente una testimonianza per me come per tutti per tutti quelli che hanno contribuito alla colletta perché c'è quello spirito veramente quest'anno forse più di qualsiasi altro anno di dire sono anche grato per il fatto di non essere bisognoso al punto di dover chiedere io il pacco e quindi contribuisco con quello che posso gli importi erano anche da 2, 5, 10 euro faccio due considerazioni una che questa cosa apre anche al di fuori dell'ambito dell'alimentare perché a quel punto chiunque può come ha fatto il giardino di Santa Maria sposare la causa e abbinarsi pur non vendendo prodotti alimentari perché nell'altro caso la colletta tradizionale ovviamente è riservata la seconda cosa è proprio molto personale io mi ritrovo di più in un'iniziativa di questo genere piuttosto che scegliere un pacco di pasta che non so se serve se non lo so per cui la mia sensazione è che auspicando ovviamente col massimo di tutto l'augurio possibile che le cose tornino soprattutto in certi campi alla tra virgolette normalità non disgiungerei da una normalità comunque il mantenimento anche di una formula come questa Paolo hai detto delle cose veramente sembri proprio allineato guarda l'anno prossimo farai con noi la colletta alimentare no effettivamente allora ti dico due cose positive la prima è proprio questa che di fatto noi potendo poi beneficiare di un budget da spendere potremo comprare dei prodotti omogenei e questo di fatto quando poi devi destinare il cibo noi tante volte diamo una scatola con dentro la pasta ai nostri enti perché lo dico anche per chi non conosce benissimo la realtà del banco alimentare il banco alimentare per esempio specificatamente nelle marche serve 300 enti assistenziali che a loro volta assistono con il cibo con una ricaduta ormai oggi intorno alle 40.000 persone quindi nelle marche 40.000 persone vengono raggiunte indirettamente attraverso appunto il banco alimentare e ovviamente quando a questi enti diamo una scatola della colletta alimentare dove c'è scritto per dire pasta per fare l'esempio che facevi tu e dentro c'è pasta di tutti i formati quindi anche loro poi si devono ingegnare a chi darla come non darle eccetera così oggettivamente potremmo avere degli acquisti omogenei quindi quando diamo la pasta possiamo dare il formato più adeguato al tipo di utenza che ha quell'ente e quindi sicuramente è un vantaggio e poi con la famosa scatoletta in più di caviale che il buon tempone compra e mette così finalmente non ce l'avete perché sennò a chi la date noi tutti gli anni abbiamo queste scatole che ho scritto varie alcuni enti proprio le adorano perché comunque è come l'uovo di Pasqua non sa mai cosa c'è dentro magari c'è una grande fortuna oppure c'è niente praticamente dipende diciamo che qui si livella un po' perché tutto quello che non aveva una categoria proprio ripetuta andava a finire nelle varie quest'anno non abbiamo le varie e quindi purtroppo viene meno l'effetto sorpresa però io sono molto grata veramente a questa modalità perché ha consentito a tutti comunque di esserci in qualche maniera e poi io credo come accennavi tu prima che comunque sarà una modalità che accompagnerà le prossime collette alimentari per cui torneremo sicuramente a delle modalità note, belle col coinvolgimento di tutti e quindi il sacchetto, la sportina è una giornata dedicata alla colletta ma magari dentro un periodo in cui comunque magari chi si è perso quella giornata chi vuole continuare a contribuire eccetera potrà farlo acquistando le tessere quindi io mi immagino già per il futuro comunque un sistema misto è perché comunque il Covid ha portato tante novità Certo, Angela è in qualche modo una collega temporanea perché ha condotto il 2 dicembre sulle persone di TV la presentazione dei gruppi di SC Dottrina Sociale della Chiesa della Regione Marchia allora forte di questa specie di confidenza ti faccio una domanda un po' provocatoria che mi è sempre rimasta in testa sulla colletta i supermercati contribuiscono a loro volta con una donazione anche loro pari secondo la mia logica dovrebbe essere pari ma comunque in percentuale rilevante e interessante oppure è solo il privato che prende e compra e da e di conseguenza sostanzialmente fa un regalo a chi ha bisogno ma anche al supermercato che vende di più allora guarda la colletta si gioca tutta sulla libertà e quindi incontra anche la libertà delle proprietà perché poi dipende a volte sono anche catene quindi non è che il direttore in sé può decidere molto però per esempio ti racconto quest'anno il gruppo CD Marche che è un gruppo di una grossa catena di supermercati del nostro territorio e non potendo fare la colletta alimentare perché non avevano il programma di lettura delle card e quindi i loro punti vendita sarebbero stati esclusi hanno fatto una donazione al banco alimentare ci hanno chiesto poi espressamente cosa ci serviva noi è un momento che siamo veramente a terra con il riso e con la pasta e quindi gli abbiamo chiesto appunto di donarci del riso e della pasta e quella è arrivata e poi ti dirò che con i supermercati è una storia di tutto l'anno perché c'è sempre magari quella donazione alla fine di un po' di prodotto eccetera veramente si crea una grande alleanza con tutti i supermercati però è un'alleanza che dura tutto l'anno perché tantissimi di questi penso all'Idol, ad Eurospina, Iconad durante l'anno giornalmente in quelli più grandi e periodicamente in quelli un po' più piccoli vengono date le eccedenze alimentari cioè tutto quello che magari è prossimo alla scadenza una confezione che magari è stata aperta ma comunque ancora buona e quindi noi tutto l'anno abbiamo questo progetto che si chiama appunto CityCibo GDO e da loro riceviamo donazioni che poi vengono date ai nostri enti assistenziali alcune volte con lo strumento del chilometro zero quindi è direttamente l'ente assistenziale che si reca al supermercato a prendere quei beni e tra l'altro così riusciamo anche a dare dei prodotti freschi che noi se no non avremo e quindi riusciamo a garantire anche un market mix interessante perché se no noi ovviamente stocchiamo solo roba secca perché è l'unica che si conserva eccetera in questa maniera siamo riusciti nel tempo a poter garantire anche tipologie di prodotti che veramente il banco alimentare sconosceva e poi è lo stesso progetto che ci siamo trovati per cui anche in città si vede spesso il nostro furgone girare con il CityCibo ristorazione, bar e pasticcerie anzi magari faccio anche un appello così che chi vuole che ha un'attività commerciale e ha degli avanzi di fine giornata di considerare il banco alimentare noi abbiamo questo progetto che appunto si chiama CityCibo con una batteria di volontari che tutti i giorni va a ritirare l'invenduto e proprio in giornata stessa viene riconsegnato per questo racconto le menze per esempio dell'ABS, della Scavolini che tutti i giorni donano le loro eccedenze della mensa diversi forni, falcioni e altri che alla fine della giornata danno quello che c'è e poi il coinvolgimento è stato massimo per esempio in questo periodo legato sempre al CityCibo GDO c'è stata l'IKEA di Ancona che ci ha donato per una settimana di seguito 360 pasti e quindi è stata veramente una batteria e ogni cosa è veramente una provocazione per andare avanti anche noi evolverci perché siamo partiti da un magazzino che dava il cibo ad alcuni enti oggi il banco alimentare nelle Marche ha due grandi magazzini distribuisce quotidianamente tantissimo cibo a questi enti assistenziali e nel frattempo sta sviluppando tantissimi nuovi progetti perché un po' la nostra regola è questa che non ci sia neanche una mollica di pane sprecata obiettivo eccezionale, ottimo in parte già in qualche modo raggiunto ma sempre da perseguire e da continuare a perseguire e come sempre si pensa di chissà cosa ci diciamo poi si comincia a parlare ci si appassiona talmente tanto agli argomenti che il tempo vola per cui noi abbiamo già concluso però Allegra permettendo Allegra è la nostra segretaria di redazione ti strappiamo una promessa poi vedremo se saremo noi in grado di mantenerla tornare a raccontarci quali sono le cifre quali sono stati i movimenti anche di questa difficilissima edizione 2020 e magari parliamo anche di un po' di altre cose che ci eravamo appuntati e di cui avremo parlato assolutamente, con piacere veramente, grazie grazie ancora e allora grazie a tutti i telespettatori di Rossini TV per essere stati anche oggi con noi sono stati sul salotto di casa Rossini Amerigo Varotti direttore generale con commercio Pesarrubino Marche Nord Fabrizio Aliva presidente dell'associazione Pesarese Albergatori e con noi qua ancora Angela Tringali direttore fondazione Banco Alimentare Marche Onlus grazie buongiorno a tutti e l'appuntamento per la diretta a venerdì bene